Ciao Milano, come state? Buongiorno Paul Paul, buongiorno. Come va sui suoi miei profili social? Ciao Milano, qui nel mio profilo Facebook, Headbook, Armbook, Icebook e Allbodybook siamo ormai a 12 miliardi e 700 milioni di utenti unici al giorno, every day! Aspetta Paul, come è possibile? Siamo circa 8 miliardi su tutto il globo. Come fa ad avere 12 miliardi di utenti unici? Adesso mi viene difficile anche pensare che la seguono dalle zone più remote del globo, non mi pare un dato realistico, 12 miliardi di persone. Sì, allora, prima cosa, guarda i tuoi follower e capa vent'anni, con i miei ci capo circa due secoli e mezzo, comunque. In che senso? No, non te lo spiego perché non ho tempo da perdere. E poi comunque non sto a dirti quanti follower ho anche da zone remote del globo. Pensa, pensa, think about it. Ho una signora di 75 anni che mi segue da Cassinnetta e Lugagnano e una coppia di Gemelli-Siamesi-Etero-Zigoti che mi segue da Paderno. Gemelli-Siamesi-Etero-Zigoti, vabbè, non indago oltre, ma comunque dai Paul, Paderno-Dugnano poi è attaccato a Milano. Ma no! Paderno-Isimbardo! Ebbene, 9.557 metri a Sud di Lodi. 9 chilometri e mezzo. Ciao Milano, come state? 12 miliardi, vabbè. Come state? Noi Paul, va bene, grazie, grazie. E tu invece come mai questo bisogno di espanderti oltre le mura, oltre misura con i tuoi profili social? Perché, ciao Milano, il nostro profilo Nati per Nascere a Milano è il primo blog, sito, podcast, libro, enciclopedia e raccolta di Santini e Gianni Rivera di tutta la provincia di Milano. E quindi? E quindi, ciao Milano, state bene? Io benissimo, grazie ai vostri 12.813 alla quarta, like sul mio post, sul nostro profilo Nati per Nascere a Milano su Instagram, Momentogram, Adessogram, Nowgram, Appena Statogram. Ciao Milano, come state? Oggi vedo che è più difficile del solito. Ma le novità non finiscono qui. Non mi ero accorto, scusami, perché sono iniziate le novità, a me non pare, però vabbè, dimmi, dimmi. Oh my God, ciao Milano, siete ancora in passerella? È appena passata la Fashion Week e il vestito che Nati per Nascere a Milano vuole proporvi è qualcosa di completamente nuovo e innovativo. Tra tre minuti che parliamo, la prima novità, mi dica, mi dica. Camicia bianca, pantalone nero e scappa sneaker. Ma oggi è una maglietta, cantava anche Nino D'Angelo, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Camicia bianca, pantalone nero, vabbè, ma che novità è? Cioè, poi dove troviamo l'originalità, la milanesità? Dove la troviamo? Ciao Milano! Ovviamente, sotto la camicia, tattoo, un tatuaggio che va da spalla a spalla con scritto I love the city of Milan. Sobrio.